A Piacenza Giuseppe Bettori, cardinale presbitero di San Marcello, cardinale di Firenze, segretario generale della CEI, attualmente è il più giovane cardinale italiano vivente. In cattedrale ha tenuto la prima delle quattro costituzioni del concilio Vaticano II, la Dei Verbum, dedicata alla parola di Dio. A 50 anni dall'apertura del concilio, nell'anno della fede, la diocesi Piacentina riscopre i documenti del concilio. Seguito con grande attenzione, l'Eminente Porporato ha invitato l'Assemblea dei Credenti ad essere attenta, attiva, partecipe. Non basta il recupero alla conoscenza, l'ascolto dei documenti e dei contenuti, ma serve tradurli in disponibilità, serve a mettersi in gioco. Mettersi alla scuola del concilio, ha detto, aiuterà a scoprire la strada che porta all'essenziale. Ha parlato di una nuova evangelizzazione, di nuove forme di annuncio del Vangelo, di fare incontrare Cristo agli uomini e ha parlato di speranza. La seconda lezione magistrale sulla Gaudium Spes in Duomo l'11 dicembre con il final Angelo Scola di Milano.